Mi bienvenue, siamo al terzo capitolo di Nazubelaventreo, che era l'attacco e con me c'è sempre lui E iniziamo subito E Austin è un po' indaffereto Eh sì, vabbè Mehdi chiede la palla Austin pure E tira Fa un po' qualcosa di brutto Però tira sempre a me di vi No, non facciamo ste frecciate Non che ci voglia tantissimo, però Vabbè Capitolo 3 La tigre si sveglia La tigre si sveglia Allenamenti Posti la passa Xavier In mezzo per Jude, gol a porta vuota Va bene E Darren sempre lì a soffrire Perché Mark pensava i fatti sui, giustamente Quindi Vabbè Ecco Bravo Archer Ecco, vabbè Sempre Archer che non sta bene Travis però ha qualcosa da dire Affronteremo il Qatar I leoni del deserto Stato del Medio Oriente Che si trova Confinate con l'Arabia Saudita Terra quasi interamente desertica Però se ci andate ora Stanno costruendo città immense Tipo Lusail Doha Doha Che sarebbe la capitale Tutto anche per i mondiali dei calcio del 1022 Però vabbè Vabbè Allenamenti Forza resistenza Ti ho perso a confinante con Vabbè Te non è che sei interessato Magari se qualcuno ci sta guardando in deresciate Che vuoi Va bene Ok Devi andare via Austin E lasciare temporaneamente la squadra Austin Va bene Forse perché ha da fare Todd Dobbiamo investigare su Austin Va bene Beh Celia non ha tutti i toni Celia rimane sempre l'unica manager Che ci ragione dietro le cose Mamma mia Ma che perché Adesso Cammi segue il padre come un'ombra Silvia sta pensando a A Mark O Eric E Celia è l'unica minchiona Perché è l'unica minchiona Ma in senso affettivo Che pensa alla squadra E questo è il bello di Di Celia Che va da tutti Nessuno escluso Comunque la squadra Le sue Forse un po' troppo su Todd Però vabbè Io direi Andiamo ora a fare Sì Todd Scott Andiamo ora a fare le amichevoli Oppure Adesso cosa fai Cosa Aspetta Ti cerco una cosa Perché se non erro Aspetta C'era Un modo per andare a Hokkaido Sì lo so Nel capitolo precedente Quindi adesso possiamo andare a Hokkaido Sì Magari passiamo un po' per quelle zone Sì andiamo lì Magari sono delle sfide Fai le sfide Se ci sono delle amichevoli Fai le amichevoli Vabbè ci vediamo tra qualche minuto No fai vedere come arrivi E poi Sarebbe meglio iniziare a fare le amichevoli Vabbè Ci vediamo dopo Abbiamo fatto le amichevoli Magari Abbassiamo La velocità dell'emulatore Siamo saliti di un po' di livelli Ma ora Eh sì Siamo andati in Hokkaido Pure in Hokkaido Siamo andati Sì Facciamo così Schifo Non è vero Siamo belli noi Comunque ora andiamo A Tokyo Sud Alla tavola calda da Ops Sì Siamo allenati senza Ops Non è nei miei interessi però Siamo vicini alla tavola calda E c'è questo ragazzo qui Sì Bulli e teppisti Bulli e teppisti Eh andiamo bene Ciao Elmetto Eh sì Andiamo dei teppisti Teppistello da strapazzo Attenzione Gli insulti di Mark Prendere Sfida Andiamo dei sfida E sapete cosa? Tirerò con l'uomo più adatto Guarda Io Per Farli capire un po' Beh appunto Matteo Ma devo un pezzo State parlando con degli alieni Non 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 vi consiglio di andare contro di noi Ah 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 La cosa si sta facendo interessante Darci un'altra Ecco chi è che arriva Arcerino Che fine ha fatto Finch Archer 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 Dall'alto in basso Dall'alto in basso Ok Così in te Non lo farei Ecco Quindi Vabbè dai fallo ti prego Voglio levarmi Mark dalla scuola Perché tanto si professa inutile Ragazzi ho offerto lui Io gli disegnerei Un Un obiettivo Proprio un cerchio Con i rossi e bianchi Sulla faccia Con scritto Colpisci qua Concordo Vabbè Archer ormai si vuole rifare una vita Giustamente Eh se solo cambiaste voi attitudine Perfetto Finita la storia con Archer Che giustamente Già avevamo capito Che se la facesse con le bande Mark Mi sa che il tuo non è meglio Non impicciarsi dei fatti degli altri Tu è meglio Non impicciarsi Con i fatti di Archer Perché molto probabilmente Quello si incacchia E ti smonta di volte Ecco qua Farò notare la differenza Tra Archer e Rostin Justamente Conoscete Sì e ora parlano di Rostin Attenzione E anche per sogno Non potremmo mai essere amici Ognuno come lui Se vedessi le motivazioni dietro Io direi Siete proprio dei bambini Proprio idioti Ma va bene Ok Ricordo che loro sono bambini Eh sì ma Idioti a questo punto Non credevo Fossero così tanto Cioè odiarlo solo perché Non ti passa una palla Va bene Va bene Va bene In effetti sono bambini I bambini si offendono Per poco Quindi vabbè Andiamo alla tavola calda Andiamo alla tavola calda De Ops E voglio vedere un attimo Questa zona perché Sì ho finito per poco Mi sembra Mi sembrano altre persone Che conosciamo Di cui però non voglio fare nomi Non farlo per favore Non farlo Non farlo Non farli sti nomi Per favore Sì bravo Sì bravo Per questa volta Per favore Mappa di Osaka Intanto Abbiamo trovato la città di Osaka Perfetto Veramente te appena trovi La mappa di Cosa di Fukuoka esplodi No Per nulla Perché in effetti Alla fine Non c'è lui A Fukuoka Ce l'abbiamo già Quindi Mi sembra inutile Vabbè Intanto Ricoltiamo pure Il new Koeman Perché dici che serve Per Nakata eh Serve per Nakata Eh per Nakata Serve per me Serve sempre Qualcuno di riserva Metti caso che Esempio Contro squadre Che iniziano con A Finiscono con Argentina Ti servano Ti servano delle riserve In effetti Non hai tutti tor Vabbè 65 punti carisma Buoni Ricarichiamoci Un pochino Magari cerchiamo Qualc'altro Forskere qui No Non c'è E andiamo Alla fine Da Ops Alve Alve At this moment In you He fucked up Si Gestisce Ristorante Con sua madre Ecco Mamma Invece La mamma Invece Non è che Sta tanto Bene Se La contabilità A 11 anni Fra te E' quello che faccio Adesso a 19 Beh E' un bravo ragazzo Austin Dai Perché forse Non sei tu Un lavoratore Della Tavola calda Ma si Lavoriamo gratis Va bene Ok Sfruttamento Minorile Vai Level 5 Alternanza Scuola Lavoro Inside Proprio Vabbè Una consegna Da fare Ecco Mark Mamma mia Mark Provo sul biglietto No Perché Devo gestire Perché Non posso Cambiare Perché il protagonista È Mark Non poteva essere Che ne so Qualcun altro Uno Intelli Darren Darren Intelligente Sì è Darren Intelligente Fascinante Schimbato Come si Va bene No Non avrei potuto Essere qualcuno Di intelligente Magari Mark Solo per le gag Comiche No Moda Sport in galleria Andiamo Al centro Aspetta C'è un forziere Qua Bunker Asfissiante Dai Andiamo Intanto Al centro Abbiamo La tecnica Counter E la tecnica Base Sì La tattica Buono Stonks Buonissimo Intanto Voglio Voglio visitare Anche altre zone Del centro In questo momento Perché voglio Un po' Capire Poi dove Andare a parare Con il tempo Capito Passare un po' Troppo largo Esplora tutto E' un gameplay story Ma alla fine Esploriamo anche Per far vedere Alle persone Cosa giocano In caso Esatto Dopo Ah mi chiuso Il gioco Vabbè Voglio almeno Riprendere familiarità Con le zone Quello è il punto Andiamo ora Qua in alto Perché c'è il mondo Dei grandi Esatto Ecco Magari esploriamo Un pochino Ecco Due forzieri Qua c'è Una fascia sporca E qua Una polpetta Di riso Ora Andiamo di qua Perché comunque C'è il campo Lì mi ricordo Sì Campo in centro Vediamo un po' Chi troviamo lì Però vorrei Vedere anche Se ci sono Tipo dei forzieri Qua Ce n'è uno Ok E' una barretta Poi Andiamo di qua C'è Oh ricaricare Ipt e Ipe Non fa mai schifo Qua ci stanno I bambinetti Parlaci Forse Ah no No Dicevo Forse Sanno qualcosa Dell'ogre Parlano dell'ogre Ma Non credo Fuori Pronostica Vole attuale Vabbè Cerco anche di Velocizzare un pochino L'emulazione Perché altrimenti Stiamo Mezz'ora Senza concludere Nulla Nulla Anche se Preferivo Avrei nata Ancora In protagonista Allora Qua invece Avrebbe Avrebbe fatto Ah farm Questa è la farm Va bene Poi ci torneremo Più avanti Perché ora Non ho voglia Di sfidarli Anche perché Voglio continuare La storia Vuol dire Che i suoi parametri Sono arrivati Al massimo Ok grazie Grazie mille Vabbè Torniamo a noi Andiamo Al moda sport Sempre se mi ci fanno Arrivare Sempre se mi ci fanno Arrivare Per fine gameplay Mi sa che Sabia avrà più gol Fatti di Axel Probabile Però devo Di sicuro più di Sean Esatto Devo aumentargli i pt Però E così Non può Non può andare Vedi Sono troppo pochi E anche a livello basso Molto basso Quindi Cioè a live Quando si è a livelli basi E le tecniche E i pt Sono sempre pochi Anche in cronestone Cioè Forziere Go Go 1 E i primi due giochi Non hanno questo problema Galaxy Cronestone Il 3 Sì Ecco possiamo andare Anche qua dentro Sempre se ci fanno passare Mi ricordo che qua Possiamo sfidare L'autaku Credo Ecco qua stanno Facendo I scioledonine Ciao Aurelia Ciao Aurelia Ciao Aurelia Ah ok Quindi password Va bene Va bene Conosciamo la password Di Aurelia Allora Ragazzi Aurelia è importante Come si chiama Aspetta Come si chiama Aurelia In giapponese Non mi ricordo Però basta cercare Password Aurelia Inazomla Mentre Ugre Ah Tsukushi Otani Ok Vediamo un poco Cosa Football Calcio Quindi calcio Come non era Password Football Allora proviamo Direttamente football Cerchiamo un attimo Ragazzi Scusate Perché Non Non va Vediamo un poco Allora 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 Dovrei mettere La lingua inglese Vabbè Poi la metteremo Poi la metteremo In futuro Intanto Andiamo pure A ricaricarci Magari se c'è un punto No Non c'è Sta all'inizio Giustamente Perché La vita è brutta Però andiamo Al moda Sport Qua c'è il distributore Di palline Andiamo Ciao builder Ciao builder E ora Parlano Giustamente Di quello Che è successo E parlano Giustamente Di Austin Continuano A parlare Di Austin Mi è venuto A fare Il tipo Per lui Ecco Si ricordano Del fatto Che comunque Amici di Austin Non potremmo Mai esserlo E c'è Ilman Che sta Con Archer Più tempo In quel vecchio parco Di chiunque altro In quartiere Andiamo a vedere Ok Va bene Che diamine Perché Cacchi Tuoi Mai Intanto Vorrei andare Un attimo Qua sopra Perché comunque Una zona Abbandonaticcia No Ok No Andiamo al vecchio Parco Però ci dovrebbe Non perché Non può esserci Una strada Un po' più Scorciatoia Cioè dobbiamo farci Per forza Tutto il giro Ma che palle Non è come in Go Che praticamente Hai la mappa completa Sin da subito La mappa completa Sin da subito Ed è tutto collegato Non è E poi se ti serve La mappa Ci vai subito Palo Credo No ok Xavier Xavier Rompe le leggi Della fisica Pure quando gioca Cioè nel senso Sembra che va Verso il palo In realtà Xavier Vuole rompere Le leggi Della fisica In realtà La palla si sposta Eh Lui la fa spostare No si sposta La porta Per far entrare Ecco E lui a spostare La porta Perché dice No devo segnare Ciao E intanto C'è questo vecchietto Dobbiamo parlare Con questo vecchietto L'ho visto E dove Ieri con un altro Giovanotto Vabbè Ok Perfetto Non sono lì In realtà In realtà Semplicemente Erano andati Un po' più In ritardo Ah ecco Il ma non si sentiva Va bene Ecco che Attenzione Ilman Rileva Rivela In realtà Cose brutte Sì Archer Se la faceva Proprio Alla grande Con Le bande Ed ecco che qua Un pallone Lo salva Che l'aveva Che l'aveva tirato Proprio Ilman Ilman Gli fa La frecciata Ecco Ilman E' preso Proprio Le qualità Di un Nonnino Bravo Nonnino Voglio bene Nonnino Vabbè Andiamo prima In autobus Però Perché Insomma Devo ricaricare Un po' Adozione Dovevo ricaricare Xavi E così Spacca altre porte Esatto E andiamo Alla fine Alla tavola calda Ora siamo vicini Alla tavola calda Però qua c'è anche Quelli Sono i bambini Di prima Ciao Bastardi Guarda L'ingaggio Speciale Ogre Poverli Una scuola Anche qui Ah ok Va bene Grazie Per Il Suggerimento Sarò franco Non me lo ricordavo Come? Sarò franco Non me lo ricordavo Quel bambinetto Finalmente ha detto Qualcosa di giusto Intanto Ecco Tavola calda Devo peser Celia è proprio Indaffara Ci sa fare Viamine Cioè siamo strapieni E Austin deve gestire Tutta quella roba Da solo Sì Cioè più palle lui Di Mark Per quanto non mi possa Piacere Intendendo anche Quelle da calcio Per quanto non mi possa Piacere Austin È davvero Un bravo ragazzo Non si può Cioè Nessuna Ma tutto il contrario Ma a me non piace Semplicemente Non mi piace come Numero 11 Ma ognuno ha i suoi gusti Per me il numero 11 Tu preferisci un altro Come numero 11 Mi piace Fei Mi piace Ayato Mi piace Tecnicamente Tescat è il numero 11 Tescat Sì È un numero 11 Quasi tutti i numeri 11 Mi piacciono Austin è il tipico Numero 11 Che non mi piace Che non merita Di essere un numero 11 Ma questo ancora Non spiega come Ti ripeti di tirare Ogni volta che Ne ho così Ma la parlantina Con quei due bambinetti Non t'ha detto niente Ovvio che voglio Rimettere Austin In squadra E aver fatto no Solo perché Sono strozzo È cattivissimo È livello 16 Comunque Buono Non è male Il giorno seguente Si allenano tutti Yeah Jordan vicino a Xavier Ne vogliamo parlare Dietro Ed è molto Darren davanti Darren davanti A Harley Scusate Non ti merita di allenamenti pesanti Fatti appacchiare Difende scusa Come? Ma come difende la porta Scusa se non si allena Scusami Il portiere Non c'è sempre la forza dell'amicizia Un portiere Si deve allenare sulla corsa Il tempo è denaro Signori Il tempo è denaro Una milanese Fattura Signor Xavier Devo fatturare Così permetto Di farla vivere Insieme a me Gringe Gringe A bestia Per come la sto interpretando Mark intanto È sempre indaffarato Con Con Archer E Caleb Tira le frecciate Tu ti preoccupi Per Archer E non per Todd Eh? In che senso? No Caleb dice Uno che non sa giocare Ad Archer E poi c'è Todd Poi c'è Todd Che cosa dovrebbe fare Todd? Mi sa che tu hai Mi sa che Oltre ad avere solo un ciuffo Hai anche un decimo Io però ho paura di una rissa Con Caleb E Archer Sincero Guarda Secondo me Io l'avrei vista benissimo Guarda Mi sarei anche divertito Intanto è tornata Vittoria No Madonna No 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 Non poteva andare qualcun altro No Sì dobbiamo lavorare col caratar Forza resistenza Va bene Qua è vero Piano Quali tattiche avete scogitato Eh questo sarebbe Sarebbe una buona cosa Però Ecco Si è giocato contro il loro In passato E giustamente dobbiamo andare Dall'Arabia Saudita Credo Sistema di contatti Yeah Va bene Ok Non Non voglio Non voglio proprio parlarvi Per favore Se mai avrei dubbi Sulla regola del fuorigioco Madonna Pure le battute Che le donne Non sanno La regola del fuorigioco Madonna Vi picchierei tutti Guarda Vi picchierei tutti Ma neanche io so Cosa è la regola del fuorigioco Sì ma C'è Diciamo La Il luogo comune Che le Che le donne Non sanno cosa sia il fuorigioco Nel calcio Capito Cioè Perché Sono troppo impegnate a fare la gusina Così eccetera E quindi Il calcio non lo sanno Pensano soltanto alla bellezza Di un giocatore E Del fatto che non sanno il fuorigioco Bella Bella trovata Sessista Soprattutto Ok Vanti incazzare Eh però È fastidioso Sentir dire certe cose Sai com'è Vabbè Andiamo al dormitorio Dobbiamo ingaggiare Direm Andiamo da direm Dai Dove sta il sistema Di contetti E' questo Ok Andiamo da direm Direm ed eri Accanto alla tavola calda Da Ops Ok Fatemi andare Fatemi andare Scusa Scusa un attimo Ma Ora che ci penso Eh Se magari mi fa andare No No non mi fa andare Benissimo Non preme Un cazzo Vabbè Andiamo direttamente Qua Tokyo Sud Tavola calda Da Ops Ci mette sempre vicino Alla tavola calda Quello è il bello Intanto Voglio cercare Di andare di qua Ah ok Non si vuole Nessuna parte Sfide Va bene Ruba palla Agli avversari Aumentiamo L'elumulazione Che mi scoccio Benissimo Non va nessuno Tutti Grazie Axel Grazie Axel Ai livelli più alti Questa sfida Sarà infame Perché sono tutti quanti Minimo una tecnica Di dribbling Minimo Lo so Dove sta dire? Intanto Ricarico Eccolo lì dire Ok In tempo io vivo in quel paese Vabbè Sono paesi confinanti Quindi Se non erro Lui impara anche la formazione V Non male Torniamo al dormitorio Però prima voglio vedere una cosa La Raymond Se si può andare Di qua Sono curioso Grazie Comunque qua è scomparsa La palestra di Nabicari Perfetto Probabilmente dopo Che l'hanno fatta saltare In aria gli alieni Nel 2 L'hanno proprio tolta Perché è inagibile Molto probabilmente Potrebbe essere Tipo avranno tolto Anche il monumento Avranno chiuso tutto Perché è inagibile Sì Molto probabilmente Potrebbe essere Cosa che cambia in Ares Perché non è Se ci colpo degli alieni L'inabicare È comunque utilizzabile Sì Spero che quelli di level 5 Non facciano questo errore Nel loro gioco Se quello sarà il sistema Di training Io Esplodo Ok Lo dobbiamo andare ora Da Cammy Ok Piano Mark Si cortese Ecco Ti rimpuniamo Poi abbiamo perso L'uscita Ecco Questo è il segreto Questo è il segreto Insomma Anche meno di prima No perché Sfruttano appunto La stanchezza Che Partono all'attacco Loro non sono mai Stati forti Loro sono resistenti Che è diverso Esatto Hanno una Grande resistenza Capace di Adattarsi Non sono mai stati Scarsi Tipo la Royal È una sega Ma in gruppo Sono forti No Mi dissocio Miau Non si dicono Certe cose Tipo la verità Potrebbe essere Un po' vero Però Soprattutto perché Hanno in No Mi dissocio Sì Mieu Vabbè Jack Guarda Jordan Che correva Al pari Di Sean Guarda Guarda I due vicini Due vicini E poi c'è Caleb Poi c'è Caleb Che si fa Gli fattacci Sua Mi sento Molto più forte Potrei Abbattere Tutto il Katara Anche da solo Bravo Seanino Venite qui Di corsa Non credo Che ce la fanno Ancora Jordan Non ti ammazzare Che cazzissimo Domani Andate a letto presto E riposate per bene Domani voglio Scattanti in forma Niente infortuni E c'ha ragione E c'ha ragione Jordan Questo è il problema Dello strafare Non è il problema Dello strafare Che Sai Si sente un pochino E vabbè Mark Sei sempre il solito Cosa credi Di fare Jordan Chi lo dice Xavier Xavier Club di calcio Dobbiamo andare Al club di calcio Eh Mai scritta Fu più dolorosa Per il mio piccolo cuore E c'è da Darrenino Al posto di Xavier Nei pressi Nei pressi Beh nei pressi Perché la zona è quella Vabbè si Però Diamine Ma non è che tipo Si può andare da qua All'ospedale No Non si può manco andare All'ospedale Voglio parlare un po' Con la gente Però Gioco con Darren In campo Spai segnare Darren Per favore Io credo in te Io credo in te Darrenino Io credo in te Darrenino 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 È lui il vero leone Darrenino Vabbè Di nascosto Insomma Bravo Darrenino Bravo Darrenino Comunque Jordan Come non sarà Un'eterna riserva Te lo giuro Aia Aia No Questa l'ho sentita Proprio nel cuore Un attimo Scusate Anche Xavier L'ha sentita Nel cuore È probabile Ecco La presa Propio La presa Propio Un attimo Un attimo Un attimo Di nascosto Un attimo Aia Un attimo Un attimo Anche Xavier e qualcuno ha sofferto e 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 ecco intrecci appalate qua comunque mi ha fatto piacere di vedere la scena della collina segreta lì con Jordan e Xavier che vengono selezionati e Dvalin che 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 purtroppo ciao vabbè un attaccante in più cioè un po' decente serviva visto che di buono c'è Sean Xavier e Axel Austin Sanford non è che stiano proprio il maestro ma infatti secondo te io la prima cosa che farò quando supereremo la Corea che sarà a parte quello giustamente recluterò di nuovo Jordan perché non posso andarmene senza di lui ragazzi senza il best PG vaffanculo a tutti vabbè dobbiamo andare contro il Qatar Giordani comunque mi è piaciuta davvero tanto questa scena con Jordan e Xavier forse la al momento è la mia scena preferita per questi tre capitoli non cederai nessuno il posto di squadra tranquillo Jordan è sempre uno dei più importanti capito? va bene? va bene? tecnicamente secondo l'anime entra Kevin ma semplicemente perché è coglione in quella situazione diciamolo fa un po' il coglione allora io voglio fare una cosa che secondo me mi attirerà tanti tanti haters scusate no purtroppo non puoi toglierlo vero? purtroppo no vedi che palle però l'altro devo cambiare pure il numero di maglia allora lui no lui vabbè devo cambiare il numero di maglia perché purtroppo quando quando fai queste cose poi ti levano i numeri vabbè dicottone va bene andiamo ora negli spogliatoi dello stadio del football Frontier International perché dobbiamo giocare la partita contro il Qatar per favore per favore non fate battute su Qatar per favore perché siete veramente cringe ok? già l'ha fatto una volta off screen e ho cringiato da paura quindi non vi permette quando 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 ci stavamo organizzando per iniziare a vero eh intanto sono curioso prima come funziona sta cavolo di modalità torneo ah va bene potrebbe servirmi potrebbe servirmi potrebbe servirmi non al momento però eh sono fatti i miei ragazza mia che devo fare si affrontiamo il Qatar il Qatar il Qatar secondo turno delle qualificazioni Giappone contro Qatar la giornata davvero torrida giustamente ma vedi un po' le coincidenze della vita in realtà sarebbe normale perché comunque è estate quando si fanno queste cose quindi vabbè non faccio un tanto delicatistà intanto c'è Khalil che la pace sia con te mi ricorda Zegniatta che la pace scenda su di voi stava da dietro di te Bilal Khalil si chiama che la fortuna possa serriverti andiamo a prepararci va bene ok e Scott perché non si è mosso Scott cosa ci nascondi forse perché in Qatar c'è solo deserto e fa un caldo boia lì sai come la gente si ambienta e poi ci sono detto che vivo che a 45 gradi non sudo proprio io a 45 gradi sto benissimo per dirti ma pure io cioè raga non fa caldo l'estate fa un freddo bestia in inverno ma non fa caldo l'estate semplicemente a condizione di c'è e saper saper reagire alle intemperie nel primo tempo schierà chi vuole nel secondo tempo devi cambiare però mh Ops in Stonewall in panchina per forza tutto il resto deve per forza rimanere in campo tranne Archer e Scott magari e Todd e Mark ¿ e Mark? ha 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 vabbè allora dimmi che posso tranquillamente stare senza Mark ok se fa così vuol dire che posso stare tranquillamente senza Mark ok che a Darren importa si togli Todd e metti Xavier per favore ovvio aspetta devi darmi un po' di tempo hai avuto un secondo di eh no perché devo capire un attimo cosa devo fare con la formazione perché secondo te Scott qua va bene si Scott è sicuramente meglio di Todd Todd cosa potrebbe farmi dai per favore andarsene alla nazionale per se nooo può essere 33 ragazzi che belli gli audioscopiettanti comunque ragazzi che posso giocare con Darrenino che bello ragazzi posso posso mettere fuori info ovvio che metto info brava guardagli le tecniche guardagli le tecniche ok lo so ehm vortice di sabbia poi bigliale ok aspetta torna torna lì sul portiere che poi che poi musta fa quanto sono prevedibili aspetta allora 117 meno 84 ok può usare tre volte vortice di sabbia se se non ho utilizzato la travolgente nel frattempo e la terza tecnica cioè la terza volta così vortice di sabbia se si attiva il furore ok se si attiva il furore può poi lui vabbè può usare due volte fai una cosa fai fare tanti contrasti a tutti eh sarebbe un'idea sarebbe un'idea oppure cercare di evitarlo il più possibile no aspetta torna dov'è dov'è il tizio vai indietro è lui ma no l'odio che ho avuto per sto tizio cerchiamo di evitarlo allora giochiamo tutto a sinistra alla fine no perché usava solo trucco magico come ho detto trucco magico a stecca ho perso il primo tempo per questo solo trucco magico usava va bene guarda anche le riserve perché l'altra volta ti ha fregato le riserve si sempre vortice di sabbia però ok questo due volte basta tormento di sabbia tormento di sabbia solo il deserto tiro dinamite tiro dinamite decker decker vabbè possiamo farcela se ci crediamo cioè si ma no ecco iniziamo si ma perché l'avete fatto passare così me lo spiegate vabbè ecco super blocco super blocco difensivo è una moda richiamo del lupo vogliela vedere la glaciazione del giappone glaciazione ok è giusto no gol c'è un nefrostino ho insegnato c'è un nefrostino cosa volevi fare tu eh trucco magico sto cavolo va in mezzo per axel rapidamente esplosivo cerchiamo di esaurirlo già il più possibile a mustafa è già andato se utilizzano il furro adesso hai vinto a meno che non ci sia un evento tipo che ricarica sono i pt a caso penso che ci sia penso che ci sia no i loro eh penso che ci sia ah no perfetto grazie grazie mille perfetto 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 questo evento capita una volta di ogni mai eh mi è capitato ora ecco furore proprio mentre se n'è andato mustafa bravo giordanino bravo giordanino giorda giordanino piccolino non so se riesce a segnare per me riuscirà a segnare col potere di giorno sai perché perché si chiama giordanino e io credo in lui io credo in giordanino non devo più credere in giordanino no c'hanno il furore e hanno vabbè 2-0 ecco già inizia la stank bene 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 iniziamo già a perdere dei p.e. vai ti prego xavier xavier sei solo tu taglie dai possiamo già esaurire con le montagne io non io oh io non ci penso subito io non ci penso subito anche con lo svantaggio signori tanto è il portiere di riserva cioè il portiere di riserva di un altro portiere molto scarso quindi che ti aspetti e neanche se ho avuto il furore 3-0 non mi ricordo se devono farti un gol per forza non io non ricordo però nel caso comunque grazie grazie urbacchione non è ppt oddio può usare il trucco magico vabbè no volevo utilizzare scott scott no non fa no non 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 dirmi che da ora in poi ti potrò utilizzare per forza perché mi fai ste cose per favore dai ti prego ti prego c'è un motivo se questa via è migliore ecco stiamo iniziando a soffrire un pochino però vabbè sarà ancora più caldo spero che una tempesta di sabbia travolga questi poveri luci uè addirittura ma io ti stacco la testa ma in realtà dovrebbero pure tranquillamente esaurire cioè nel senso non esaurire rinviare la partita quindi non puoi sperare una tempesta di sabbia vabbè devi devi mettere Austin e Axel allora vediamo come stanno messi Sean se allora se attivi il furore Sean non può ancora farlo un tiro Xavé non credo no Xavé no perché la metà avrà di rompere di consuma tutto allora togliamo e mettiamo guardami Axel guardami Axel può utilizzare ancora un tornado di fuoco se gli fai il furore può usare l'avvitamento esplosivo o un altro momento di fuoco ok va bene tanto rimaniamo così ma io direi che il furore fai poi vero che puoi ricaricare i pittina adesso si durante la partita bella Austin Austinino dai 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 Austin ti taglio le gambe Austinino sei uno scemo ecco che mo Axel si incazza ogni volta che gioca la sua scuola vince con uno svantaggio straordinario ecco vabbè capito è comunque un bambino cioè non ha più non ha una mentalità proprio matura oppure comunque un po' borderline come puoi averlo un ragazzino delle medie in Giappone almeno c'è 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 Grazie a tutti. Facci vedere quello che sai fare. Dirteci sul serio. Non restere in maniera storica. Non sarà così facile se solo prenderci i vostri. D'accordo. L'avete voluto? Avanti, arrivati! Passate la palla ai vostri! E rimanete concentrati! Quanto mi fa male sentire l'audio scoppiettare, però... Non ci possiamo fare nulla. A me fa ridere il fatto che tutto questo... Che tutto questo bel discorsone gigantesco, super motivazionale... Questa volta Mark lo fa... Dalla panchina. Che bello! Bellissimo! Bellissimo! Ah, che bello però non far entrare Mark. Chacca. Rupito! Guardate questo tipo! Rupi! Rupito! Sulla pingre! Eh, 4-0 così Vabbè Alla fine Travis ha sempre La tattica giusta Travis ha sempre ragione Che è diverso Travis è bravo Tanto Austin ruba palla Vai Austin 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 Cos'è? Dai Axel Che palla Vabbè rubiamo palla Vai Giordanino Vai Giordanino 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 Tocca a te Dai devi segnare solo tu Ti prego Giordanino Ti prego Giordanino Sono 6 pick di differenza O uso una block Una block OS Gol Ai gol Giordanino 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 E questo mi sembrava Sì fatto da te Bello mio Mancano 20 minuti al termine Giordanino 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 Perché fallo Se lui ha triplato Ma perché? Ma lo so anche io Che non è fallo Lo so anche io Ed è una cosa grave Sì va bene Ok Austin Abbiamo capito Che sei una bestia Però Insomma Magamma di poco Ecco Te pareva Vai a vedere cosa Sai fare Ora tu Brave Fuor gioco Lo dovevo Sospettare Io lo odio quel coso È inutile In realtà è utile sì Sono capace pure io A mettermi sempre Dall'altra parte del campo Allora io In tutti i miei giochi Di Tutti i miei giocati Di Nazuma Non ho mai Salvato un'azione Neanche online Se era in fuorigioco Mai Manco una volta È una cosa inutile Abono Intanto Vabbè starai Sarai io Che il calcio Disprezzo Vabbè Probabilmente Per quello Però Cerchiamo di fare 6 a 0 Sarebbe una cattiva idea Austin Non sarebbe Una cattiva idea Ok Scott Sei bravo Ho capito Molto bravo Sto rivalutando Scott in questi momenti Soprattutto per quello Che ha fatto Nel primo tempo Allora C'è Un momento per scherzare Un momento per non scherzare Ok Ok Vabbè Perché non sapevate Che avesse avuto A che fare Con una tigre Mark Vabbè Vinto Vinto 5 a 0 Saliamo di livelli Ok Nata dal 24 Sì Calma un poco Arley Per favore Ehi Ma che la prossima partita Come lì Diretti alla linea Le football frontiere International Eh sì È uscito Finalmente Il vero Austin Yeee Spero Jack Giustamente Si fa qualche domanda Perché non Ti abbiamo visto Il football frontier Non poteva partecipare Perché Ancora L'ultimo anno Dell'elementario Sì Può affrontare Un torneo Per gli studenti Delle scuole medie Mentre Football Frontier International Aperto Tutti i giocatori Sotto i 15 anni Quindi anche un Bambè Che magari Sa giocare a calcio Può entrare Nella squadra Ok Vabbè Intanto Ho finito da partire C'è Luca Con Nakata Andiamo a prendere Un gelato Mmm Detoshi Nakata Intanto Bello sorpreso Nel frattempo I più forti giocatori Del mondo Avanzavano velocemente Nel loro cammino mondiale Vediamo un poco Brasil Brasile Macro Binko Ci ha pensato lui Giustamente A portare La vittoria Il Brasile Che ballano Giustamente C'è anche Lagarto Nuovo allenatore E andiamo anche In America Negli Stati Uniti Resta per celebrare Il passaggio Dell'unicorno Sì Giustamente I statunitensi Fanno sempre così Sempre Eric Comunque C'è un bel rapporto Con I suoi compagni Giapponesi Ma vabbè Ora lui Si trova Negli Stati Uniti Se avete finito Prima di Grazie al cavolo Che non è visto dopo Tra l'altro Prossima tappa Ultima partita Del Giron Asiatico Entriamo nella fase finale Del Football Frontier International Sì Però Forse non vi è nuovo Questo rumore Infatti Jude stesso Dice che la sensazione Non è nuova Bene 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 Evans Sì 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 In caso Non l'avessi capito Siamo tornati Per fare Scali Continua Volta Per tutte Preparatemi A perdere Allora ci rivediamo Ma Cosa Non capisco Cosa ci fare Qui Martin Non riesce proprio A cruzare la testa Però Che ne sarà C'è un posto E' una giurla Siamo venute Sassidati E' un vincitore Per la presenza E' un'altra giocomia A livello mondiale Comunità 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 Si prestiamo a affrontare La partita decisiva Delle qualificazioni Mamma Chi si fanno più Mera ragazzi Scoprirono nel prossimo capitolo Linea Sulla schiena Nel mondo Da Nel suo barrabbi Sono il loro capitano E quindi Anche il terzo capitolo E' finito Se Intanto possiamo anche togliere Togliamo Perché Non si sa mai Che ci siano spoiler Comunque Siamo giunti alla fine Di questo terzo capitolo Voglio essere sincero Con voi A parte La scena Tra Xavier e Jordan Non ho notato Niente Di Speciale Nel senso Ora andiamo per gradi Scopriamo Che dobbiamo battere Il Qatar Perfetto Andiamo Facciamo le nostre quest Come Come sempre Ci ritroviamo A scoprire Molto di più Sulla storia di Archer Che Focalizziamoci prima Su Archer E poi su Austin Archer Teppista Che con una storia Intricata dietro Che Che è sempre Nella malavita Lo salva Dalla malavita Il signor Ilman Che gli tira un pallone Perché giustamente Anche Ilman Si ritrovava In queste condizioni Molto prima Qualche anno fa Quando ancora Doveva iniziare a giocare A calcio 40 anni prima Giustamente Questo focalizzamento Si ritrova Molto di più Su Ilman Perché comunque Ilman Ne conosce Cioè Ne conosce La sua storia Molto bene Sa come uscirne fuori Quindi consiglia Le stesse cose Ad Archer Che da Un passato Di malavita Si ritrova Finalmente A cambiare La sua La sua vita Cioè nel senso Fai una carriera Che ti può portare Davvero in un qualcosa Di speciale Che non ti faccia Del male Soprattutto la tua Felina penale Va bene Niente di speciale Semplicemente Ci ritroviamo In questo gruppo Di tempisti Archer Ci salva E poi alla fine Mark Si mette in mezzo Con Quel tizio La Crouse Che rompe le scatole E vabbè Niente di speciale Passiamo Finalmente ad Austin Austin è un ragazzino È un bambino Sta facendo ancora Le elementari All'ultimo anno Delle elementari Che si ritrova Da Praticamente Giocare con I suoi coetanei A Lottarsela per il mondo Intanto le ambulanze passano Che non finiscono più Comunque Si ritrova da Giocare con i Con bambini Che cerca di divertirsi Ma alla fine Non riceve nulla Perché giustamente I bambini Si devono lamentare Dicendo Eh ma non me la passa mai Segna sempre lui Va bene Ok E si ritrova In un palcoscenico Mondiale Tanta roba Comunque Torniamo a noi Scopriamo Che questo ragazzo Austin Deve andarsene Per forza prima Dagli allenamenti Perché gestisce Anche una tavola calda Essendolo sua madre malata E giustamente Lui si preoccupa Un casino E alla fine Gestisce lui Tutto quanto Da solo Mark Mark Company Lo vengono a scoprire Se le inizia a fare La cameriera Così Prende ordinazione Eccetera eccetera Mark va Consegnare Le consegne Bella ripetizione De sto cavolo E vabbè Si scopre molto di più Però Axel Rimane sempre Col dubbio Ma perché Non tira mai Giustamente Perché Con il suo passato Vabbè Arriviamo Poi Alla parte Bellina Amorina Con Xavier Jordan Qua l'hanno Approfondita Molto di più In questa versione Del gioco Infatti anche per questo Ho voluto mettere Questa versione Del gioco Perché Su Lampo Folgorante E su Tempesta di Fu No Tempesta di Fuoco Il 2 Fuoco Esplosivo Non ricordo Che ci fosse Questa scena Soprattutto perché Il posto È la collina segreta La collina segreta Non si trova Nei giochi Di Lampo Folgorante E Fuoco Esplosivo Quindi forse Per questo Che Ogre Rimarrà sempre Più completo Degli altri due Perfetto Perfetto Diamine Le parole Le parole Che ha detto Jordan Cioè Sono stato sempre Un attaccante Di seconda classe Rispetto a te Che sei sempre Stato il cocco Quello Sempre al centro Di tutto Diamine Fatto male Ha fatto male Pure a me Se ha fatto male A me A Et Chissà quanto Potrà far male A Sabe che infatti Non ha reagito Proprio dispiaciuto Perché comunque Lui conosce Le sue qualità Conosce il suo gioco E vedere Vedere tutto quello Che è stato fatto Giustamente Le ha fatto star male Già comunque Ai tempi di Kyoto Della famosa Kyoto Del famoso capitolo 4 Che abbiamo registrato In Azul 11 2 Xavi era molto Dispiaciuto Di quello che era successo A Janus Jordan Vederlo ora Giustamente Xavi si sente Un po' meglio Perché giustamente Si ritrova Un suo Bell'amico Un suo amichetto Bravo Finalmente Ripulito Che sta meglio Che non Si deprime più Diciamo Poi alla fine Si becca Questo sfogo Xavi cosa può dire Perché è vero Lui è sempre stata La gemma del padre La gemma del padre La gemma della Genesis La squadra perfetta Dell'Alius Mentre Jordan è stato Il primo Che se n'è andato Perché giustamente Era trattato come Come Spazzatura Come ho detto io Nell'episodio Di Kyoto Di Nanzo Eleven 2 E Diamine Quello sfogo Di Jordan Ha fatto Malissimo Ha fatto Malissimo Io apprezzaro Tantissimo Questa scelta Stilistica Questa scelta Storiografica Apprezzaro Tantissimo E Vedere poi Vabbè Austin Che si ricollega Vabbè Evitiamo Perché alla fine Abbiamo già capito Qual è il problema Di Austin Rimane sempre Il fatto Che Xavi e Jordan Sono una coppia Bellissima Sempre Bellissimo Perfetta Vabbè Alla fine Ci ritroviamo Nella partita Contro il Qatar Va bene Tutti quanti Si allenano Per la resistenza Ok Abbiamo capito Che quello È il fuoco Il fulcro Della partita Giochiamo Nella nostra partita Giochiamo Il nostro primo tempo Entra Austin Finalmente Grazie a Axel Si fa Due palle Tante E decide Di tirare E di Sfoggiare Il rugito Della tigre Perfetto È uscito Il vero Austin Grazie a Dio La mamma Giustamente Guarda gli spalti È contenta E Vabbè Stava osservando Comunque la partita Con Ilman Raccontano meglio La storia Cioè Che Austin È sempre stato Uno Abbastanza egoista Nel senso che Lui prende palla Due secondi Già in porta Tirare E segnare Ma è questo Lo spirito Dell'attaccante L'attaccante È Cioè Lo spirito Dell'attaccante È incarnato Proprio in Austin In questo caso Prende palla Segna Fine Deve fare Quello È quello Il suo lavoro Poi Gli altri Che vogliono Segnare È un altro Conto Ok Va bene Facciamo la nostra partita Vinciamo 5-0 Con il solito Gol di Giordanino Con Darren Importa Perché Mark Non si merita La titolarità Per me E niente Alla fine Finisce la partita E ci ritroviamo Poi Dopo Dopo un po' Catapultati Contro la Neo Japan Il preludio Alla Neo Japan Che si vedrà Nel prossimo capitolo E Magari Corea Corea Sì Per forza Perché deve esserci Pure la finale Il giro in asiatico Io ho finito Di parlare Io aspetto Soltanto la Corea Per vedere Chissà chi Ma avete già capito Ora lascio Parlare Etern Ho perso Il post Aspetta Ok No cazzo Non ho segnato Proprio niente Oggi Vabbè Sono stupido Vabbè Allora Questo capitolo Ora Personalmente È Uguale Agli altri Bene o male Perché Ogre Ha particolarità Degli ogre E dal punto di vista Storico O di narrazione Non ha chissà Quali Sviluppi Gigantesche Differenze Perché Non ti fanno vedere Nei canon Né la ogre Né nient'altro Quindi Vabbè Ci sto Non devono per forza Metterli sempre Anzi Metterli una volta ogni tanto Secondo me È più importante Perché se li metti sempre Dopo un po' Viene la nausea Comunque Il capitolo Si apre Con Gli allenamenti Della squadra Ovvero Tutti quanti Che seguendo Le dritte Della Nel Trevis Tra parentesi Mentre Loro Si rendono Altri Si rendono In campo E c'è una cosa Che a me Ha fatto Storcere il naso Perché Va bene Il capitolo precedente Cos'è che è successo Praticamente Jude E gli altri Hanno avuto Dei diverbi Con l'allenatore Esplosivo Avrebbero potuto Sviluppare Tante altre cose C'è ad esempio Giocatori che hanno solo tecniche In combinata Come Jude Che avrebbero potuto avere tecniche anche in singolo Caleb che non ha tecniche Avrebbero potuto farmelo vedere che tiro Salene a dribblare O Fa altre cose Invece no Vediamo semplicemente Austin che passa Xavier Passa Austin Austin passa giù De Giusegna A Darren Perché a Darren Vabbè Cioè allora A me Sta sul culo Mark E Darren è indifferente Va bene Però è ingiusto Fanno bullismo su Darren Eh Quello Quello Ci fanno bullismo Perché Cazzo Allora L'avete detto voi Darren e Mark Sono alla pari A inizio in Zoom Eleven 3 Quindi contando anche il Qatar Evviamente anche la partita dopo il Qatar Sono Darren È più forte di Mark Però perché fate segnare a Darren Fate segnare a Mark Non è che essendo il protagonista Deve avere interazioni con tutti per forza Ci sono opere che hanno In cui persone In cui tutte Interazioni con tutto E sono comunque fatti bene Perché Mark deve interagire con Archer Mettici qualcun altro Mettici che ne so Darren Mettici Giude Mettici qualcun altro No Mark Così ovviamente bullizzano Darren Non ne parliamo su questo Dai per favore Vabbè Comunque Collegandoci anche al fatto di Archer Ha comunque un tiro migliore del mio Va bene Va bene Però la cosa è che praticamente Ti fanno vedere che Archer Non sa tirare Cioè non sa fare un niente Ha fatto quella Magia Quella magia Durante Le qualificazioni Per impedire a Caleb Di segnare La selezione Dici Sì E basta Stop Ciao Vabbè Poi parla un po' Della storia Magari di Archer E ne parlo dopo Ah ok va bene Se mi dai il tempo Scusa 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 Comunque Finiscono gli allenamenti E si vede Ti guarda che si ferma e fanno Oddio sono esauvo Noi sulla faccia Sto crullando E poi vedi Jordan che tira dritto Sì Signor Jordan Me coglioni Signor Jordanino Me cojones Cioè lui che tira dritto E continua a correre Poi quando tipo fanno Poi non mi ricordo Se è quella dopo Però Vabbè comunque Jordan che continua Nonostante gli dicono di fermarsi E ci sta Sì E poi C'è Austin che se ne scappa Va bene Continuano anche i dubbi di Axel E quindi Arriva Celia Che è l'unica L'unica Che fa il suo lavoro L'unica Datele qualcosa Datele in premio L'unica Secondo me Celia Palesemente Si fa di anfetamine Per Risopportare tutto ciò Vabbè Comunque Che fa Ragazzi Andate a seguire Austin Dai Così scoprite Magari la trama va avanti Celia ha il pertenso Di trama perfetta Celia rompe la quarta parete No 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 Buon Celia Vabbè Comunque Celia in realtà è Deadpool Alcuno ci faccia un montaggio Per favore Vabbè No eh vabbè Magari più avanti Quando Faremo un video Speciale così Solo per Celia Per adorarla Tutti quanti Celia Celia Pull Vabbè Vabbè Comunque Celia Che dice Dai ragazzi Andate Andate Seguite Austin Seguite Austin Ma non Seguite Austin Vabbè Vabbè Seguono Austin C'è Jude ovviamente La parentesi Sai quando si mette una cosa in testa Zitto Zitto Ha scoperto più cose lei In due giochi In due giochi che te hai in 25 Quindi per favore Falla parlare Vedi che la sorella Uscita bene È serie Non Jude Ma Jude Ma Jude È Ray Dark In pratica Vabbè Andiamo avanti Comunque Vanno Si va alla tavola Calda Da Hobbs Ok Oddio Prima c'è tutto il casino Con la banda Si scopre Suar C'era il fatto Che lui era Nelle bande Che tira in calcio Che porca troca Non era in calcio Quello Era la riete Vabbè Cioè Dovevo ingaggiare Per la guerra di Troia Altro che il cavallo Ci putta via Raga Distruggiamo Troia Come Avventate nei calci Vai Vabbè Comunque Si scopre il suo passato Perché tutti quanti Lo chiamano Capo 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 Dai torna con noi Capo Per favore Capo Dai capo Dai capo Lui Non posso Adesso C'ho la carriera Nel calcio Hai tradito Tu vecchi amici Per il calcio Io lo dico Non mi sa che hanno paura Però Comunque Tutto questo Poi quando Archer Se ne va Praticamente Fa una comparsa E se ne va Archer E ci sta Perché altrimenti Sarebbe diventata Una presenza Troppo grossa Troppo Tossica No tossica Perché si inizia A mettere Il suo personaggio Troppo In troppo poco tempo È tossico Ok Tipo Archer lo hai già visto Ha avuto già la sua scena Con Mark Se lo mettevi Un'altra volta Vabbè Puoi fare le cose Con Ilman Vabbè Quello possiamo Poi saltarlo Se hai già capito Si entra e scopri OBS Scopri Il fatto Tavola Da OBS Che poi Dubito che In Giappone Esista un'altra persona Che si chiama di cognome OBS Però in quel caso È localizzazione Quindi non puoi Manco Vabbè Ma che onda Che in Giappone Non mi sa comunque Lo stesso Vabbè Cioè È un po' raro Toramaru Ciao Quello Comunque vanno Oh ciao OBS Sei te No Sono la sua ombra Stile Peter Pan Guarda Sono la sua ombra La ombra di Fate Beh Ma mica ti terrorizza Vabbè Sì Mi terrorizza ancora oggi Sto cercando di riderci sopra Sai con me OBS Mark si piglia l'incarico Dobbiamo andare a consegnare a Builder Ma tra tutti i cristiani Proprio Builder Vabbè Builder Vabbè Dai Ok Poi parli con Builder E Builder ti fa scoprire il fatto che Archer e Ilman passano tanto tempo assieme Si allenano Blablabla Quindi Mark fa Quindi Mark Non si fa i chiacchi suoi Perché ce l'ha scritto nel sangue Tipo a posto dei globuli bianchi C'ha I Non farti mai cacchi tuoi Inc No I globuli Non farti mai cacchi tuoi Vabbè È una frase in tira Che gli scorre nel sangue Comunque scopriamo anche Il fatto che Archer e Ilman Passano tanto tempo assieme Che si allenano Perché dubito che Archer e Ilman assieme Giochi la carta Anche perché con la rabbia Che ha il fece Archer dentro Figuranti calci Vabbè Comunque Mark e gli altri Un povero anziano infartato Vai Mark e gli altri Vanno al campetto Ma arrivano troppo presto E il vecchietto gli fa No Oggi non li ho ancora visti No Oggi non li ho ancora visti Passate dopo No non li fa passate dopo Non li ho ancora visti Il punto è quello E se ne vanno Poi arrivano loro E Non è che arrivano loro per gag Ma arrivano loro Cioè arrivano Archer e Ilman Perché Ilman ha avuto un altro attacco Sì E cosa gli fa capire Che sta peggiorando la sua situazione Perché va bene Sì prima ha avuto un Oddio Però Averne in altro Così A muzzo Probabilmente anche molto forte Sì Cominciamo che non giova alla salute Eh Non giova niente Giova solo alle pompe funebri In effetti Vabbè Con le pompe Quindi vanno avanti E si continua con l'allenamento Con Hobbs va bene Ok Con Hobbs C'è la parte di Jordan Dove Jordan fa Sai Xavier Come il tempo è denaro E continua a correre Poi c'è la clipettina lì Mark e Caleb e Archer Che fanno Eh fra Vuoi prendere i botti No Dai Non puoi Non puoi fare così Però dai Dai Ma mi grigi Sembri uno Della Dark Polo Gang No No fra Per favore Eh vedi Dai Voglio fare dei grigi No scherzo Vabbè comunque Hai capito Che fanno un po' I teppistelli Tra dei loro Sì Eh comunque Vanno avanti E poi arrivano Due personaggi inutili Che saltiamo Due personaggi inutili Che saltiamo Cioè Non te li dico Le personaggi inutili Che saltiamo Quello che tu hai fatto E me Calcio La regola del calcio Ok Aspè Aspè No vedi Sono così inutili Che mi sto scordando Pure quali sono Comunque Vabbè No stai Fammi ricordare un attimo Ti prego Chi erano Ah ok Ah è vero Victoria e Suzette Va bene Abbiamo già parlato Per favore Va bene Si balza Poi Sì Poi Se non erro Dopo quello C'è la clip O l'evento Di Jordan Extavie Ovvero che tutti Si fermano No Aspetta Prima C'è il fatto Che tu recluti L'ex giocatore Si Quella della rabbia Vabbè Yeah Solo per scoprire Qualcosa Nel Qatar Vabbè Vabbè Che poi alla fine Io Ce l'ho capito All'epoca Poi Fate voi Perché ti dice Quando eravamo stanchi Buongiorno Eh Anche se io non capisco Una cosa Non capisco una cosa Scusate Perché Perché questo No 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 Scusate Allora Arabia Saudita E Qatar Sono due paesi Confinanti Quindi Hanno tutte e due Un clima Molto torrido Perché l'Arabia Saudita Ha sofferto Del clima Torrido E il Qatar E il Qatar E il Qatar no Bucco di trama Bucco di trama Bucchissimo di trama Bucco di trama Perché non ha senso Geograficamente Quindi Vabbè Non puoi pretendere Forse Forse i giocatori del Qatar Erano più abituati Al clima Torrido Perché Ma non puoi dire questo Perché l'Arabia Saudita Gli arabi Vivono pure Loro in mezzo Al deserto Al clima torrido Quindi Vabbè Prendila Prendila per buona Saltiamo Saltiamo questo Non voglio farmi Pippe mentali E poi si continua Con l'allenamento Poi Arriva Una parte bellissima Perché Vabbè C'è Sean che fa Potrei affrontare Tutto il Qatar da solo In realtà Il Qatar da solo Se lo fanno Xavier Jordan Però vabbè Vabbè Si arriva E Appunto C'è la clipettina Xavier Jordan Ovvero Ovvero Jordan Che piano piano Arretra E se ne va Dopo che L'allenatore Ha detto Ragazzi Voi non vi dovete Più allenare E dal certo punto di vista Io lo capisco A Jordan Perché Non ti senti All'altezza Secondo te Non sei Abbastanza bravo Per poter giocare Non sei Non ti senti Importante Secondo te Potrebbero ripiazzare E ci sta Per carità Non dico il contrario Quindi Si va avanti No E vedi Alla fine Xavier Jordan Che vanno Al park Non al parco Ai parcheggi In pratica Perché Lì sono parcheggi Sì Non il club E lì Arriva La scenona Te con Mario Ti apposti Dietro l'auto E senti Jordan Che gli fa Tu eri La stella Della Genesis E il più amato Da tutti Tutti Eri il migliore Io ho sempre dovuto Sudare Cioè Ero Un'amara Seconda Un'anonima Seconda scelta Sì Questo ti fa capire Quanto lui Nel 2 Perlomeno nei giochi Anche un po' Nell'anime Non si sia sentito Apprezzato Perché appunto La Gemini È stata la prima Squadra Che hanno affrontato Il primo bilancio Il primo grande problema Che alla fine Non era niente di che Perché ha confrontato Perché ha confronto Con la Epsilon Cioè L'Epsilon Ha messo in crisi Sean Mark Un po' Tutti Quindi Non è che sia proprio Cioè Non era fortissimo E erano anche scarse E dire Un'anonima Seconda scelta Vuol dire Sì Io ero il capitano Della Gemini Ma la Gemini Era un po' Era un niente Sì Glielo dice a Xavier E Xavier Lì Praticamente Secondo me Si ne rende conto A quel punto Quello che era Perché È vero Jordan era forte Ma Xavier Era il capitano Dell'ultima squadra Dell'Alius Cioè Della prima squadra Sì Scusi Il problema di Xavier È che è stato Sempre No No T'ho ascoltato Voglio ascoltare Capi? Cioè Quando dici certe cose Voglio ascoltare Capi? E voglio Tirare pure io Magari un'aggiunta Forse il problema Di Xavier È stato Sempre che Lui Si è abituato Al troppo Che aveva A tutti i meriti Che aveva Che non è riuscito Più a mettersi Nei panni Di chi Stava Sotto In realtà Il punto Non è quello È che Ce lo dicono Xavier È sempre Stato Un talento Sì Jordan Si è dovuto Fare un cucolo Cioè Quando Ilman Li va a reclutare Va bene C'è tutta la scenetta Con Xavier E poi che gli fa Adesso ti stai divertendo E tipo quando Ilman Li va a reclutare Secondo me Il senso Che aveva Che voleva Dare Xavier Guarda Hanno preso Te Ne hanno preso Balin In effetti Vuol dire Che Ilman Sapeva Che eri migliore Quindi per favore Sapeva Che ti facevi Il mazzo Tanto Appunto Appunto E Lì Jordan Un po' capisce E gli fa Tu adesso Saresti Al livello Di alcuni Della Epsilon Se non Della Genesis E a livello Del Queen Della Genesis Allora Vuol dire due cose Uno che lui Si è migliorato Ma vuol dire Anche che comunque Abbastanza indietro Pochino Perché la Genesis Va bene Era forte Però Avevano I top Che erano Xavier Bellatrix E nero Si Gli altri erano Un po' Non anonimi Ma non fortissimi Vabbè Whiz Un po' Per fare Pinguino Spaziale Ciao Vabbè Avrebbero potuto Mettere anche Bo Turner Della Brainwashing Per fare Pinguino Spaziale Vabbè Comunque Ti fa capire Che comunque È migliorato E in pochissimo Tempo Si perché Sono passati Tre mesi In relativo poco tempo Ma neanche Perché Jordan Nel flashback Di Xavier Non giocava Va bene Può aver Ricominciato a giocare Si Però Quando il man Li va a prendere Metti che è passato Una settimana Lui si è allenato Si è allenato Cioè Si è allenato Poco Perché Poco Ed è arrivato A livelli Della Genesis Però Comunque Dopo questo Jordan ci lancia La bomba Sto lavorando Una tecnica speciale E quelle Preso Va preso Basta Fine Va bene Ti porta Il 99 Prima della corretta Vabbè Vabbè Sai che mi fa Solo il primo A fare Sembri per le tecniche Oh bomba Andiamo a fare Comunque Poi Austin Che Vabbè C'è Sean Parla E poi Arriva Austin Che fa Divertirsi C'ha Ancora i traumi E quindi Se ne va C'è Axel Che se ne accorge Vabbè Vabbè C'è Axel Che per tutto il capitolo Ha rincorso Austin Diedendogli Che cacchio C'hai Che cacchio C'hai Austin Va bene E ora passiamo Alla partita E c'è la partita Appunto C'è la partita La partita va E allora A me Della partita Ha sempre fatto Bene Cioè mi è sempre piaciuto Quel concetto Che Tipo Loro sono stanchi Noi no La botella De leoni Però Neanche troppo Perché poi Lo usano sempre Quindi Vabbè Poi lo spammano Per me sono la squadra Più scarsa Che ci possa essere In Nino Zoom Eleven 3 Perché non hanno tecniche La loro tattica è Vi spianchiamo E vediamo come va Vabbè Vabbè Tattica proprio Bruttissima Però vabbè Tattica infame Più che brutta Sembra tipo I catenacciari Quelli che fanno catenaccio E poi alla fine Oppure Quelli che ho di tanto Che segnano il primo minuto Poi tutta la partita Fanno catenaccio Etern No 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 dai 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 Torniamo Sulla partita L'unica cosa L'unica nota positiva L'unica cosa Di Di spicco È Mark E Axel E Jude Che fanno Austin Dai Austin L'unica cosa Bella Di quella partita È l'animazione Cioè Austin Incazzatissimo Che sbatte il piede a terra Si genera sta tigrona Mio dio Che Che va Ruggito della tigre Va bene Te lasciamo E quella tecnica Tira E segna Yeah Cioè È passato un tiro Che aveva steso tutti Vabbè Poi Si segna Finisce E vabbè C'è Harley Che praticamente Lo prende a pugni Ma quanto ce lo dici È bastardo E quanto ce lo dici È bastardo Tipo lo prendono E gli sbatta La testa contro i muri Dai cazzo Perché non ce la dice C'è l'età Me la stai sanguinando Eh Andiamo ancora a mondo Dai Comunque A me Una cosa che è piaciuta Io avrei preferito Vedere un'altra cosa Oltre ad Austin Anche un altro po' di Harley Perché Harley Dice Per me questo È una brezza Fate Avete un surfista come Harley Sfruttatelo Cioè Quel coso viveva Ad Okina Ad Okina Un po' di caldo C'è anche lì Quindi per favore Potete fare una cosa Sfruttatelo No level 5 No solo Austin Va bene Va bene Cioè vi dava consigli Su come Stare bene E giocare al caldo Avrebbe potuto Resistere Avrebbe potuto Farci la Non una tecnica nuova Non lui che segno Prende panno Semplicemente lui Che riesce a marcare Un po' i giocatori Sì Dico nella serie animata Come evento in gioco Sì Quello sì Anche perché Cioè Quelli che vivono Su un'isola Comunque Sono molto più Solgetti al caldo Essendo comunque Isolati Soprattutto Ma poi Il clima Essendo uno spazio Molto stretto di terra Lo senti molto di più Soprattutto per l'umidità Che ti viene attorno Con l'acqua Vabbè Robbe meteorologiche Vabbè Comunque Si va avanti E C'è Axel Che gli fa Non eri ancora Al tuo massimo Vero Eh sì Sì Vabbè Le solite Di solito gonfiarsi Tipo gorilla E quel Perché non ti abbia Mi stavo 11 anni Sto ancora All'elementari Cioè A 11 anni Quel tizio Partecipa Ai mondiali Sì Ho ufficialmente Paura No Scherzo Però È forte E fin qui Sì Non è forte Quanto Axel Perché Per quanto Axel Non sia Forte Nella Nella Sede originale Vi dico Vi ricordo Axel È forte Da adulto Da bambino Axel È mediocre Ok Axel È da adulto Che è forte Come Mostin Tra l'altro Manca una cosa Ora Sì Praticamente Dopo Si tornano tutti quanti E poi c'è questo Tuonone Oh mio dio Questa sensazione Già sentita Grazie al caccia Hanno utilizzato La host dell'Alius È letteralmente La stessa cosa No io mi ricordo Che hanno utilizzato L'host della Royal Mi ricordo Vabbè la Royal È spammata Vabbè Vabbè Host della Royal Quella per i grandi eventi Quella per i grandi eventi Da mid-villain Inutile Che non serve Soltanto a fare Un po' di fanservice Quello che non guasta mai Vero Comunque È tipo C'è Lui che esce Oh dio ma Sei tu No sono Dave Quagmire Potevi chiederti Qualunque nome Ha scelto Dave Vabbè Vabbè Capisco che In italiana Localizzazione Posa fare un po' schifo Però Vabbè Potevi chiederti Qualunque nome Sai il nome Ok Comunque Siamo qui Per il vostro posto Innazionale Non umiudire Per rivalina Ciao Mark Sei nina No Prima tre vische fa Ok No tre vische fa Ok Ok Va bene Chi sono questi Non lo so Però vabbè Allora Che poi Piccola parentesi Tutti quanti A dire Che Oh mio dio La Inazuma Japan Fortissima C'è la Neo Inazuma Japan Fortissima Perché Advalin C'è King Io sono fortissimo No raga Sono Siete voi che sopravvalutate Ogni personaggio Di presente Perché oh mio dio C'è Nalin Non mi dice King Io mi metterei I shit Per arrivare Far arrivare tutti Il livello 99 Solo per sfondere La porta di King Nient'altro Guarda Tipo Fai segnare A Scott No faccio segnare A Darren Per dire Prenditi l'umiliazione Chi è il secondo Portiere più forte Che si meritava Di Nanzuma Japan Di diritto Perché appunto Io sono meglio Sviluppato di te Soprattutto C'ho tecniche migliori di te E soprattutto Io non vado a copiare Ulteriormente Da qualcuno Che poi alla fine Ha copiato Come te invece Che alla fine Hai copiato Una tecnica di uno Molto più scarso di te Alla fine Hai detto Soprattutto 200 volte In una frase Eh Bello mio Che devo dire L'ho fatta La frecciata L'ho fatta La frecciata Io sono una brutta Persona Lo sapete Lo sapete Soprattutto perché Amo Darren King è obiettivamente Più scarso È diamine Ma lo hanno anche detto Eh ma Darren Non copia King ha copiato Male La muraglia infinita E la trivella spaziale Ne vogliamo parlare? Vabbè Non ne parliamo Non ne parliamo Perché se no Mi incavolo ancora di più E non voglio Quindi Hai altro da dire Oppure Questa cosa Piccola parentesi Che poi riprenderemo Tra qualche mese Quando Arriva sta cosa Viene anche ripresentata In Galaxy Con la Resistance Japan C'è un picco C'è una piccola differenza Alla Resistance Japan Gli hanno chiesto Infatti Tipo Raga Potete per favore Fare il culo Ma veramente Basta 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 L'attaccante capitano Basta lui Però C'è una piccola differenza All'epoca Nessuno Nella prima stagione Era forte Ok Erano tutti Tra ne pochi Sopra la media Da adulti Sono forti Mentre in Go Molti giocatori Sono delle belve Già da bambini Sono già degli animali Dei mostri Quentin Vabbè Comunque Che Piccola parentesi A livello di forza La Neonazuma Japan Le prende Dalla Resistance Ok Ma non perché c'è Aku Basta anche Njord Basta anche Basta anche lui Ma Ma anche senza Cashin Ma Basta anche Laurel Io sono serio Comunque Qui finisce il capitolo Con Lina che fa Siamo qui per sfidarevi Chi vincerà Diventerà Il nuovo Va bene Va bene Lina Allora C'è una piccola differenza Tra te E Ilman E Trevis Trevis ha potuto In finale Una squadra Che si chiamava Fiori di Ciliegio Fiori di Ciliegio O Ciliegio C'è un'altra piccola differenza Ilman Ha convocato Quei giocatori Perché forse E dico Forse Sono forti Ma Forse Scott Vabbè Scott Todd Va bene Però In difesa C'è uno come Jack C'è uno come Nathan Tu in difesa C'hai Due per farla Morale infinita Il velo scopo È stare lì Per dire Dai King Fai la Morale infinita Dai 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 Così ci rendiamo utili Dai Che cringe C'è In attacco C'hanno Era C'hanno Valin Vuoi mettere Era Che era il secondo Della Zeus Vabbè Era per di Con Xavier Sean Axel C'è Beh Sean Axel Li hai visti Xavier Sai com'è Io avrei Hai detto No ragazzi Se sfidiamo in Azuma Japan Questi ci mandano a casa Ma nel senso Su una meteora Vabbè Comunque Ci sono le pregui Del prossimo capitolo C'è un capitolo E vai avanti Vabbè Allora Ed Io ti ricordo Che se vuoi dire Sia Per salutare Devi farlo comunque Con Un modo un po' più Basso Perché se dici Sousa Un po' purlando Si sente pochissimo Quindi Magari Fai Dirmelo magari Durante In Azuma Leven 1 Scusa Il problema Si è ripercorso Solo da metà In Azuma Leven 2 Quindi Vabbè Comunque Siamo giunti Al finale Del terzo capitolo Che era durato Un'ora esatta Però abbiamo Speso 45 minuti A parlarci Sopra Va bene Quindi Non ho niente Altro da dire Vabbè In realtà Un'ora è 50 Però 50 minuti Solo di parlantina Quasi metà episodio Tutta a parlare Vabbè Quindi Noi non abbiamo Niente altro da dire Spero che questo capitolo Vi sia piaciuto Spero che la nostra discussione Vi sia piaciuta E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Alla prossima Da Bjorn Dai Dai Seriamente Sì